Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi abbiamo ricevuto un nuovo pacco, una nuova spedizione inviata direttamente dagli amici di Do It Yourself Pedal Gear Parts. Come sapete, collaboro con questi gentilissimi ragazzi da ormai diversi mesi e per cui ogni loro novità mi arriva e riesco a presentarvela praticamente in anteprima in modo tale da poter costruire e montare insieme i loro bellissimi pedali. Per cui, detto ciò, passiamo immediatamente a vedere cosa mi hanno inviato questa volta in modo tale da capire che tipo di montaggio abbiamo, le difficoltà che abbiamo in questi pedali che come potete vedere sono tre e analizziamo come al solito tutto insieme. Allora, iniziamo ad aprire questo che come al solito viene contraddistinto dalle loro bellissime confezioni che se vi ricordate sono assolutamente organizzate al loro interno praticamente troviamo tutti i componenti divisi appunto per categoria poi ovviamente durante il viaggio può sempre succedere che qualcosa si muova ma l'importante è che ci sia sempre tutto presente e come potete vedere abbiamo veramente un'organizzazione perfetta del materiale abbiamo sempre la nostra solita scatola di alluminio che ormai grazie alla punta conica non temo più abbiamo il nostro adesivo ovviamente da applicare sulla scatola e il circuito stampato ovviamente poi abbiamo delle istruzioni di base dove praticamente abbiamo l'elenco dei componenti e varie informazioni poi chiaramente sul sito sul sito che ovviamente vi lascio in descrizione potete trovare le istruzioni complete questo qui in questo caso specifico si tratta di Orange Boost Replica Kit quindi sicuramente poi deciderò di quale dei tre mostrarvi le fasi di montaggio e sicuramente di tutti vi porterò degli esempi sonori ma allora detto ciò passiamo avanti andiamo a vedere cosa c'è nelle altre confezioni nelle altre buste in modo tale da vedere tutto quanto allora apriamo questa seconda busta ora adesso non fate caso che qui non c'è la scatola ovviamente questo è solo un invio per me ma chiunque acquisti un prodotto da loro lo riceverà con questa bellissima confezione allora in questo caso andiamo a vedere cosa c'è e qui abbiamo già un circuito stampato più complesso e questo qui è il Chirone Overdrive bellissimo guardate che serigrafia molto bella ovviamente qui abbiamo una scatola di alluminio più importante perché come potete vedere abbiamo più pezzi allora ovviamente sempre sul sito potete scaricare le istruzioni e qui abbiamo sempre allegato ovviamente elenco dei componenti istruzioni di base quindi con elenco dei componenti e come al solito tutto quanto il resto adesso riponiamo questo insieme e andiamo a vedere che cos'è l'altro prodotto che mi hanno inviato allora abbiamo la terza busta ok la terza busta contiene un quest'altro pedale che ha questa serigrafia di questo tipo qui questo qui è il pedale Satori Overdrive replica kit ovviamente poi durante le fasi di montaggio andremo a vedere anche a cosa è ispirato questo pedale perché vi ricordo sono tutte repliche sono diciamo dei cloni che poi vengono sicuramente ritoccati modificati per renderli unici e come al solito anche qui abbiamo le istruzioni con l'elenco dei componenti da seguire in fase di montaggio e come al solito le varie informazioni sui componenti anche qui abbiamo la nostra scatola di alluminio che in questo caso è una via di mezzo anzi no è la stessa dell'altro pedale che vi ho mostrato prima è una grandezza diciamo media e abbiamo ovviamente sempre tutto l'elenco dei pezzi adesso qui ci troviamo di fronte praticamente a degli overdrive due overdrive e un boost quindi sicuramente poi spero che mi facciate sapere quale preferite quale vi piace di più in modo tale da portarvi se volete ovviamente degli esempi specifici su tutto questo bellissimo materiale e ok questo era grossomodo l'unboxing di questi tre nuovi pedali che mi hanno mandato in anteprima in test diciamo gli amici di do it yourself pedal gear parts e vi posso preannunciare senza spoilerare nulla che ci saranno delle grandi novità che riguardano me direttamente in collaborazione con questi geniali e gentilissimi ragazzi per cui vi consiglio sempre di continuare a seguire il canale di iscrivervi e di attivare la campanellina magari se volete lasciatemi anche il solito pollice in su che mi renderebbe molto felice perché appunto nei prossimi mesi nelle prossime settimane insomma adesso ancora non so esattamente quando avremo delle novità veramente incredibili detto ciò io vi saluto e vi ricordo di nuovo di seguirmi in modo tale da non perdere nessuna delle mie novità io vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao